fino a qui tutto a posto daniele che dice prossimo nel corto fondamentale va bene giocherai ok vediamo quasi ci ha trovato qualche uno che non sia troppo forte vi sente oggi e chi cazzo a loro si è svincolato io ne posso vedere se cosa ragazzi vabbè dai andiamo a giocare non ci serve nessuno una cata aumentato di uno 75 rosi pure 66 rise pure 74 carriero pure me pare 68 minieri pure 70 piano piano arriveremo arriveremo in serie b con lo smalto giusto prossima partita contro il mac dons li distruggeremo no ma così no daniele gioca perché sono rompere i coglioni ma è sicura aumentato santos pure e basta poi ho la so portamo al posto di kelly che mezzo stranito no i moscatelli non mi ricordo che doveva saltare la partita non fa niente francesco ultimo gol fatto ultima partita ha fatto un macello non giochiamo ancora per poi nella città sì che non non so perché ma va bene così i corelli a 19 gol distruttivo proprio distruttivo diciamo pure questa serie c ragazzi abbiamo le carte per farlo davico è buona vale senza potenza scusate eh gli devo dire la ciavatta al gatto che me sale sulle tende no la violenza sugli animali usciteteli proprio attenzione no ora fuori gioco questo è per commesso start vedi questo è il corpo del gatto che rimasta guardare nella circostanza che merita di essere rivista ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro una zero riprendiamola ragazzi qui non ci stanno gatti ci stanno gatti mandalo è buona per nagata non c'è niente testa però mamma mia vigorelli che assist col tacco migliori però non sfrutta l'occasione è buona bravo stè vico era buona mamma mia mamma mia che intervento povero la perde acquista rosi però dai capitano dai capitano è buona per vigorelli ma sfrutta però bravo complimenti ma non c'è niente testa ma non c'è capitano interviene riconquista il palazzo no alizie bravo bravissimo stefano ma chissà i tonali russi in mezzo c'è n'acata vigorelli non va carriero la botta da fuori pulizione buona bravo carriè chi tira tira rise vigorelli precisione carci pulizione 60 rise 78 eppure sinistro questa tanca sono lì valla a pià portiere centrale non ha girato affatto le punizioni si toccamparà a tirarle perché non so buono da da fifa 19 proprio non l'ho assegnate tre in tre anni però no da da settembre che cita il gioco mamma mia daniele si è guardato fatto pian corpo ho un amo lì via sta partita che non la posso perdere perché ho messo start per quel cazzo di gatto dai abbiamo stessa partita riapriamola bravo marco vuole troppo vigorelli ripartano in capo aperto oh ma il terzino è un dodos ah che si dove cazzo vai non ci siamo ragazzi comunque dai risi non mollarlo no stanno bambolati non stanno partiti da oggi ripartiamo il contropiede dai a vigo che si abbracciamo perché cassetti si spinge così in avanti brutto primo tempo senza tiri proprio franzisco si è guardata franzisco si è guardata fai penso più rosi fai penso più rosi miniera in volata miniera in volata ci ripensa intelligentissimo santos vigorelli parte un po' tardi decido di pressare il portatore di palla occhio al contrappiere è qui occhio a free man ah vada mia maledizione a te santos maledizione a te ragazzi stiamo a far mischiata al mcdonald's dai per cortesia guarda questo quanto corre voi lì ehi sa come cazzo si chiama meno male esce ai piedi uno a cerveteri e uno a latina allora esce carriero che è stanco entrò panci poi finiti di cambio dai panci bravo rosi peccato per la potenza dai rega non possiamo perderla non hanno fatto niente bravo rise ma ancora a combattere rise va bene va bene bravo rosi di peccato che sei in coglione mamma mia daniele fermo immobile ehi sa questo san fervorato ma che c'ha per rifarsi sotto fuori gioco bravo zantos rossi a giro guarda come stanno chiusi picorelli buono buono l'angolo fai gli abbattarise fai gli abbattarise questo la possiamo riaprire cassetti cassetti un po' non credo potesse fare di più in quelle condizioni aveva praticamente il marcatore addosso ha fatto il massimo e comincia un'altra azione importante a caccia del bari no vale passaggio brutto mamma mia panci eh niente sto questo esito sta in forma si vabbè mamma mia meno male che era lunga bravo Puyol butta avanti niente bravissimo Puyol dai Puyol che ce l'hai ma annalo dai rosi ma ce panno a te testa panci ma vaffanculo l'amo persa è stata persa ragazzi vabbè andiamo a vedere il peggiore del match panci non vale è entrato al sessantaseiesimo Hidalgo 5.9 Hidalgo la prossima la salta la salta l'amore la salta l'amore